La classificazione degli strumenti musicali Ci sono diverse classificazioni di strumenti musicali Noi utilizziamo quella di sax Orpostel sax Com'è fatta questa classificazione? Allora, in base al tipo di suono emesso Comunque il materiale si trasmette la vibrazione Lo sappiamo Abbiamo gli strumenti a corda Gli strumenti a fiato Gli strumenti a salvatore o d'aria Strumenti a percussione, idiofoni E strumenti elettronici Ok? Qui abbiamo uno schema a percussione Allora, vabbè, qui ho detto che quelli a suono determinato e indeterminato Sono quelli a percussione, quelli che emettono un suono Come il xilofono, vibrafono, celeste Questi sono a percussione, sì, ma emettono anche dei suoni E invece poi quelli a suono determinato Che non emettono dei suoni con una frequenza Diciamo Calcolabile O meglio che si possa definire come Come una scala musicale Come si può fare qui Ok? Questi sono a membrano, ovviamente E questi invece sono fatti con degli altri materiali Può essere legno, campana Legno, ferro oppure altro Percussioni Abbiamo un po' di materiali Vedete lo xilofono Lo strumento Dove qui sotto ci sono le casse di risonanzi Però vedremo cosa sono Il vibrafono Accorda Questi sono tutti a corda Però Questi sono a pizzico Questo è con l'arco Questo è un doppio È a pizzico percussivo Questa ha sia l'effetto del pizzicato Ma sia l'effetto della percussione Infatti il martelletto che picccia sulla corda Viene pizzicata ma anche percossa Ok Vediamo se Beh, infatti qui si è definita in corda percossa Che le ha l'aria Allora Le corde di uno strumento producono note più pure e potenti Quando nuove Ovvero quando la loro forma è quanto è possibile Siamo quelle di un colore perfetto Quindi quando la corda è nuova Diciamo che il materiale Somiglia molto di più ad un cilindro perfetto Rispetto a quando la corda è consumata Che Se si va ad analizzare in modo molto più Più in dettaglio La corda è sia sporca ma sia Si deforma anche un po' La conformazione del corpo Per questo una corda nuova suona Molto più forte Molto più squillante Perché innanzitutto non è attaccata ad una suona gente E due perché conserva questa sua Caratteristica di essere quasi cilindrica Man mano che si usa Poi il suono diventa Un po' Perde diciamo di calore Di frequenza Di intensità La corda senza nulla attaccata a tono Non emettono sonodibile Perché è troppo debile Perché è una corda di chitarra Ok Questo ci sta dicendo che Se noi prendiamo una corda di chitarra E la La teniamo con due dita Anche tesa al massimo Se la facciamo vibrare Non trasmetterà mai niente Rispetto a quando Trasmette Una chitarra Perché? Perché la corda di chitarra In questo caso Tocca le nostre dita E non trasmette nessuna vibrazione Al nostro corpo Meglio la trasmette Ma noi non siamo in grado Di amplificarla Nella chitarra invece Le corde sono su dei ponticelli Che vanno poi Il suono viene passato Dal ponticello Alla cassa armonica Ecco qui che dalla vibrazione Della corda Passa alla vibrazione Della cassa armonica Ok? Dal tavolo armonica E quindi fa vibrare Tutta quella parte d'aria Quindi il ponticello serve Per il passaggio Di vibrazione Dalla corda Alla tavola armonica Non solo vibra Al tavolo armonica Ma vibra anche Tutto quello che c'è Dentro la cassa armonica Quell'aria Che c'è Che sembra innocua Ma in realtà Sta vibrando Quella si chiama Cassa di risonanza Se la formola Andrà cambiato Per entrare Da nostra stessa Ok Questa è promuoto armonica Ok Vabbè qui sta dicendo che A secondi dove suoniamo Sulla chitarra La posizione Il suono vive in un modo Se la suoniamo in centro Noi becchiamo Il primo armonico Come prima E quindi poi sentiamo gli altri Quindi non sono molto più forte Perché abbiamo tutti gli armonici Se noi la suoniamo invece Ad un terzo In realtà Stiamo iniziando A far sviluppare Questo armonico Quindi sentiremo Molto di più questo Ma meno questo E quindi sentiremo Molto di più Le altre frequenze Tranne quello più La prima Ok Se pizzicata la corda C'è tutte le vibrazioni Che comportano Un movimento Della parte centrale Della corda Concorrerà Nel momento Della creanata Ma le vibrazioni Che richiedono Ma le vibrazioni Che richiedono Che la parte centrale Della corda Non si muova Non parteciperanno Alla formazione Della nota In questo caso La corda Viene pizzicata Un terzo Alla solo Un get Spettacolo Ancora una volta Le vibrazioni Che comportano Un movimento Dal punto pizzicato Possono concorrere Alla formazione Del suono Mentre lo faranno Le vibrazioni Che implicano Un'assenza Di movimento Della corda In quel punto Ok I risuonatori Cosa sono? Il fulcro Di uno strumento Musicale È il generatore Di suono Cioè il vibratore Che in primo luogo Attiva il meccanismo Oscillatorio In uno strumento Ad arco La corda In uno strumento A canna Lancia Quindi vuol dire Che per una chitarra Il primo generatore Di suono È la corda D'altra parte Stimolare una corda Completamente sestanto Per quanto In via Avason Non porta a niente Ciò perché la quantità D'aria posta In oscillazione Rimane modesta Rispetto a quello Che può essere Spostata da una membrana Di tamburo O dalla tavola armonica Di un violoncello Le onde prodotte Dal generatore Ne esistono Di un risuonatore Che assolve La duplice funzione Non solo Di rafforzare La perturbazione Ma anche Di conferire Ogni strumento Il suo particolare Carattere timbrico Il risuonatore Ha a sua volta Un sistema oscillante Abbiamo detto Da un'armonica Allora Variabili In forma Materiale Spessore Qualità Della vernice Tavola armonica Risonanza E proprio Che temere Misura Percipitare il suono Sollecitata A vibrare Con le corde Grazie al ponticello Quello che vi ho detto Prima Ok Ad esempio Questo diapason Vedete Se noi lo facessimo Vibrare Senza questo Sentiremmo Un là Però solo Se lo appoggiamo Allo sto orecchio Se invece Lo mettiamo In questa Scatola armonica Il diapason Vibra Insieme a loro Vibra Sia il legno Sia l'aria Che c'è qui Intorno Ora Ogni forma Ogni geometria Ha una sua Frequenza Di risonanza Nel senso che In questo caso Ad esempio Questa scatola Potrebbe avere La risonanza Dell'area Che è 440 Che significa Che Se noi Diamo Una Mandiamo Una Vibrazione Di 440 Hertz E la risonanza E la risonanza Qui di 440 Viene amplificata Naturalmente Per chi Vibra insieme Ad esempio Se una chitarra Suona un re E l'aria Compressa Nella Nella Cassa armonica Che Ovviamente Si calcola La frequenza Di risonanza Non è a caso Qui Si fanno Delle Si fanno Delle Una sorta Di Non ricordo Che formula Era Comunque La potete Trovare Sul web La formula Per capire In un parallelepipedo Come misurare La frequenza Di risonanza Dati lati Così E capite Questa Frequenza Di risonanza Ok Nella chitarra La stessa cosa Si potrebbe Calcolare E quindi Il suono Del diapason Viene amplificato Da questa Frequenza Di risonanza E come Arriva La frequenza Qui Tramite Il diapason Che è appoggiato Sul legno Fa vibrare La parte di sopra La tavoletta Armonica Passa la vibrazione All'aria E si trasmette Guitare di violine Molti strumenti Possiede una Cassa di risonanza O Cassa armonica Che permette Di amplificare Il suono Emesso Dalle corde Che vibrano Ok Un modello Semplice Che è lo stesso Funzionamento Della Cassa armonica E lo stesso Ok Se si afferra Il diapason Con una mano E lo si percuote Si ottiene Un suono debole E' quello Che dicevamo Ok E questo effetto Si chiama Per simpatia Cioè Quando Abbiamo Una frequenza Che sta oscillando A 400 E abbiamo Un corpo Vicino Alla stessa Frequenza 440 Ad esempio Anche se non vibra Se noi facciamo Vibrare Il primo corpo Per simpatia E si dice Vibri il secondo corpo E' un fenomeno fisico Ok Vediamo cos'è la risonanza Di Helmholtz E' il fenomeno di risonanza Nell'aria E' una cavità Quello che dicevamo Molte persone Conoscono tale fenomeno Anche se ne ignora il meccanismo Quando soffia delicatamente Attraverso il colo di una bottiglia Il suono prodotto E' dovuto Alla risonanza Di Helmholtz Quando noi soffiamo Infatti sentiamo Un suono Una frequenza Che magari Non è percepibile Però è una frequenza Che è data Dal calcolo Di quelle dimensioni Della bottiglia Ecco perché Quando vedete Tante persone Che suonano con le bottiglie Che fischiano dentro Perché ogni bottiglia Si dà una frequenza Di risonanza All'interno Magari mettendo Dei materiali Oppure aumentando La grandezza Della bottiglia Quando dell'aria In eccesso Viene forzata Attraverso una cavità La pressione All'interno Stessa aumenta Una volta Che la forza esterna Che è causata La forzatura Dell'aria accessa L'aria a maggior pressione Presente all'interno Della cavità Tenderà a fuoriuscire Dallo stesso punto In cui è rientrata Questo flusso di aria In uscita Tenderà a sovraccompensare La cavità Rimarrà una pressione Leggermente inferiore A quella esterna Provocando un risucchio D'aria Ok È una compressione Una refazione di aria Che entra ed esce Il suono di ogni risonatore Si rafforza per la frequenza Che coincide con quella Della propria risonanza Che è unica Alla presimetria Ok La conchiglia Fa del risonatore Perché risalta Quei rumori esterni Ok Quando noi mettiamo L'orecchio Al mare Alla conchiglia Che noi diciamo Sentire il rumore del mare In realtà Quella conchiglia Ha una sua frequenza Di risonanza Ad esempio C'è una frequenza Di risonanza Di 30 Hz Che significa Che se lui sente Delle frequenze Di 30 Hz in giro I rumori Li amplifica Nella conchiglia Quindi quando mettiamo La conchiglia all'orecchio Sentiamo questi rumori Queste frequenze Date alla risonanza Di Helmholtz Risuonare Vengono amplificati In pratica Questi rumori Alla stessa frequenza Della risonanza Di Helmholtz Della conchiglia Sono 4 acustiche Ok Ok Qui ci siamo Bene ragazzi Qui ci siamo DiHAMO Di